Con trepidazione, seguo la persistente situazione di conflitto in Etiopia. Ancora una volta ripeto con animo accorato che la violenza non risolve le discordie, ma soltanto ne accresce le tragiche conseguenze. Faccio appello a quanti hanno responsabilità politiche affinché cessino le sofferenze della popolazione inerme e si trovino soluzioni eque per una pace duratura in tutto il Paese. Possano gli sforzi delle parti per il dialogo e la ricerca del bene comune condurre a un concreto percorso di riconciliazione. Non manchino ai fratelli e alle sorelle etiopi così duramente provati la nostra preghiera, la nostra solidarietà e i necessari aiuti umanitari. The Pope met with Patriarch Abuna Matthias I, head of the Ethiopian Orthodox Tejedo Church. We greet you in the name of the Almighty God, Your Holiness. It is a great pleasure we meet you here in the ancient city of Vatican. Pope Francis said that this meeting is part of the cordial relations that sustain both churches. La visita di vostra santità rafforza i legami fraterni che già uniscono le nostre chieste. The Pope explained that they are sister churches whose members are united by baptism. He also recalled that blood ecumenism that unites all Christians persecuted, especially in the Middle East and Africa. Once again he asked the authorities around the world to promote a culture of peace. The Patriarch gave the Pope an Ethiopian cross and a prayer book. In return Pope Francis gave him a peace medallion with the symbol of an olive tree. The Ethiopian Orthodox Tejedo Church was founded by the Saint Fermentius in the 4th century and has 35 million members with a community in Rome.